la geografia tipografica dove la balena ritrova il bufo e lo spazio è accogliente come il trapezio. Queste perfette fantasmagorie dicono davvero qual è la sostanza del sogno infantile. Ci spiegano perché quando si apprende per la prima volta l'alfabeto ci si mette in viaggio, si va verso i luoghi contenuti nell'alfabetiere che il bambino decifra come il libro dei veri segreti. Collocato dalla parte dei bambini, Pola è consapevole che senza le pagine a quadretti piccoli non si vedono le luci del semaforo della vita. Complimenti. Consegna Paul Filippo Giordano per la categoria opera prima, Paul Chargis. Complimenti. Complimenti. Grazie a lei. Vogliamo adesso anche chiamare insieme a vincitori coloro che hanno avuto una menzione in ogni categoria. Certo. We would like to call on stage the following honorable mentions for the four categories. Quindi chiamo sul palco il Von Merjumpfrauen, Capitänen und Fliegen der Fischen di Renate Recche, published by Boye Verlag di Cologne in Germany. Letteranger Mysterieux, ennesima menzione di Mark Twain, casa editrice Alvin Michel Jeunesse. Poi, applausi. Se ci raggiungete, se vuole venire per noi, allora... Poi, attenzione, Reverb Descartes di Martin Javier, casa editrice Gallimard Jeunesse e Chivolet Paris, Francia. Se ci raggiungete, grazie. There is piccola Pinocoteca Portatile, portatile, there is piccola Pinocoteca Portatile, published by Toppy Pitori, Milan-Italia. Altra menzione. Tutte le lezioni sono dalla natura. Texte ed illustrazioni by Didier Corniglie, published by Helium, Parigi, Francia. E poi ancora, Dan Montpagnier, testo di Judith Nobion, illustrazione by Florence Buirot, published by Edition della Martinière Jeunesse Parigi, Francia ancora. Buonasera, benvenuti, complimenti. Next behind, Fiesta dell'Agua, sonne e leiendas di Cicla. Texte by Caterina Camastra e Hector Rega, illustrations by Julio Torres Lara, published by Editiones El Naranjo, Mexico City. Mexico City! Buonasera. Buonasera. Ancora abbiamo Impressiones en Negro, text selections by Carlos Tagada e Miriam Martínez Garza, illustrations by Manuel Monroy, published by Conaculta, Alas y Reises, Mexico City, Mexico. Mexico! Next we have The Thor Mountain, text and illustrations by Toc Sudni, published by Songboks, Cho Seungkyang from Seoul, Korea. Korea! Korea! Prego! Goal! Goal! il testo e di joao gomez de avreo spero di non sbagliare l'illustrazione di l'applauso per tutti i vincitori e menzionati applausi e complimenti da tutti noi grazie grazie gratulazioni potete anche lasciarci grazie mille arrivederci salve arrivederci perché ci ha preso gusto voi applaudite grazie portogallo corea messico la francia questo per giustificare come dire la dimensione anche di questa questa bella favola che è la fiera del proprio ragazzo si chiede rilassate un attimo perché noi in questo periodo abbiamo avuto un momento d'incontro con tutti questi nomi provvedenti da ogni parte del territorio ho avuto qualche difficoltà visto abbiamo fatto anche la ceglie riesca non siamo caduti sulla ceglie riesca che era insomma vero è veramente simpatico allora veniamo all'interno della bologna bologna ragazzi c'è un nuovo premio è nato un nuovo premio importante e si chiama bologna ragazzi digital awards allora io chiedo al presidente del giuria di raggiungerci sul palco per premiare le categorie fiction e non fiction